Questa notte i luoghi simbolo delle città si illumineranno di rosso, dalla torre dell'orologio a Castelfranco, al municipio di Montebelluna e Villorba, al monumento dei donatori a Conegliano. Un messaggio forte per sottolineare l'importanza della donazione. Per dare un segnale che noi ci siamo, ci siamo con la donazione, ci siamo nel territorio, abbiamo necessità di continuare a donare. Questa è la giornata giusta per fare un appello. Nei primi mesi dell'anno si è registrato un calo preoccupante delle donazioni e se il trend dovesse continuare, spiega la Presidente, non saremo più in grado di soddisfare le richieste di sangue e di contribuire all'autosufficienza nazionale. Fra i motivi di questa riduzione drastica nelle donazioni, il periodo della pandemia. Questo periodo ci ha un po' allontanato, ci ha allontanato anche della nostra sensibilità, del nostro essere comuni e vicini ai nostri ammalati. Io mi auguro che questa 14 giugno 2022 ci permetta di essere ancora responsabili contro, verso chi? I nostri amici, i nostri parenti, i nostri ammalati. Da una parte l'estate dà sempre il periodo più delicato sul fronte delle donazioni, dall'altro l'alto numero di incidenti stradali e la ripresa di tanti interventi chirurgici rinviati a causa del Covid sta mettendo in difficoltà il sistema. Abbiamo necessità di curare i nostri ammalati e per curarli abbiamo necessità di donare sangue e anche plasma. Plasma è un salvavita per i nostri ammalati, di conseguenza dobbiamo farlo.